Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, non lo so. Ma piatra, vieni qua, vieni a parlare al microfono. Tu, vieni al microfono, vieni qua. Parla, vado un momento su. Lo studente, lo studente è lì fuori, ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è, è buio. E usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Ma è sto profondo. Allora io dico, cioè che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste quattro lì le vigliacche fino alla morte. Solo ogni parte è trappato dal centro delle cose. Da ogni respiro, trattenuto dall'ansia che stringe la bolla. E da questa guerra, che prima della fine si ucciderà di nuovo. E da questa guerra, che prima della fine si ucciderà di nuovo. Allora io andiamo in bambini, che come la fine si ucciderà di nuovo. Se solo non fosse così, mi chiedo potessi scappare, fuggire, lontano dal grigio pegnare, di uomini stanchi. Mi chiedo se solo non fosse così, mi chiedo potessi scappare, fuggire, lontano dal grigio pegnare, di uomini stanchi. Lontano dal grigio pegnare, fuggire, lontano dal grigio pegnare, di uomini stanchi. Lontano dal grigio.